Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nuovo pacchetto di Amazon perché col fatto che continuano a fare offerte incredibili ho preso la versione 4 Cult di Danko, storico film di Arnold Schwarzenegger ovviamente e James Belushi di ormai tanti anni fa, ma in queste nuove versioni 4 Cult vengono rivitalizzati e gli danno assolutamente un nuovo valore aggiunto per cui visto il prezzo veramente irrisorio conviene prenderlo per cui adesso lo andiamo ad aprire insieme, vediamo com'è la confezione e facciamo un breve paragone con la precedente versione in Blu-ray. Allora, procediamo qui con la rimozione della pellicola, bisogna fare molta attenzione alla slip case che come in ogni versione di queste 4 Cult è a rilievo, non so se poi riuscite a vedere dal video, ma c'è questo effetto veramente bello sulla copertina e in generale il resto è tutto molto bello al tatto, quindi assolutamente valorizza questo prodotto. Mentre all'interno abbiamo questa cartolina bellissima, Danko Red Heat, che sarebbe il titolo originale e qui abbiamo allora la numerazione 734 di 1000 e poi abbiamo gli altri diciamo gli altri titoli disponibili in queste bellissime versioni 4 Cult. Diciamo che allora ovviamente qui c'è pure il Blu-ray, l'avevamo già nella versione precedente, adesso andiamo a vedere la differenza, ma quello che ci importa ovviamente è questa versione 4K HDR aggiornata. Abbiamo una durata di 104 minuti, la produzione è del 1988, per cui insomma, come dicevamo prima, bello vecchiotto e per quanto riguarda l'audio abbiamo un DTS HD Master Audio purtroppo solo 2.0, mentre in inglese abbiamo il 5.1. Stessa situazione audio per il Blu-ray classico, mentre ovviamente abbiamo il film 4K in risoluzione 3840 x 2160p e quindi chiaramente in Dolby Vision UHD. Questa era la versione precedente, dove avevamo semplicemente questo disco Blu-ray normale e andiamo a vedere se è stato cambiato l'audio. No, praticamente le tracce audio sono le stesse, per cui quindi l'unico valore aggiunto, diciamo, tra virgolette unico, è la versione quindi video 4K con il Dolby Vision e poi questa bellissima cartolina che ovviamente è un prodotto numerato ed esclusivo di questa collana. Come vedete ci sono diversi altri film, abbiamo Cliffhanger, abbiamo fuga da New York, insomma adesso valuterò se in futuro magari prendere qualcun altro di questi e già ho visto che a settembre uscirà Iado, sempre di Arnold Schwarzenegger, che chiaramente porterò sul canale appena uscirà. Considerate che Arnold Schwarzenegger è praticamente il mio attore preferito da sempre, per cui come esce qualcosa, anche se già ce l'avevo, lo compro subito. Poi ripeto, questo l'ho pagato 17 euro mi sembra, quindi insomma considerando che i film in 4K nei negozi si trovano a 30 o di più, qui siamo all'incirca la metà, per cui ecco non ci ho neanche pensato troppo, l'ho preso e basta. È un bene aggiornare il catalogo home video alle nuove tecnologie, perché altrimenti poi ci troveremo di fronte alla situazione DVD con uno schermo 4K. Se vi ricordate, se noi andiamo a vedere un DVD su uno schermo 4K, lo vediamo male perché la sorgente era troppo bassa, per cui in ottica futura magari di schermi 8K partendo con il Blu-ray normale avremo grosso modo la stessa differenza, per cui potendo farlo è bene aggiornare i titoli visto che appunto la spesa è veramente irrisoria. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su e vi chiedo anche di farmi sapere se voi avete questa versione del film o quella precedente, in generale se vi è piaciuto questo titolo di Schwarzenegger e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi contenuti. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!